Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Star Wars Rebellion, un gioco che attendevo veramente da un casino di tempo e uno dei giochi a cui ero più interessato, ovviamente da fanatico di Guerre Stellari, quale sono sempre stato, gioco della Fantasy Flight Games, e portato in Italia da Asmod Italia, che colgo l'occasione ovviamente per salutare e ringraziarli che ormai sono quasi due anni di collaborazione. Star Wars Rebellion è un gioco di strategia da 2 a 4 giocatori, ci sono le regole per giocarlo in 3 o 4, ma ovviamente essendoci due forze in campo ed è ambientato nella vecchia trilogia, ci sono Imperio e Rebellione, quindi secondo me il meglio lo dà in 2. Comunque si può giocare sulle regole anche per giocarle in 4. Età dai 14 anni in su, sì, mi trovo d'accordissimo, e della durata di almeno, si va dalle 3 alle 4 ore. Dura abbastanza, non è sicuramente un Twilight Imperium, non è un 4X, però è un gioco di tattica che richiede molto tempo, e questo è il primo gioco che ci hanno offerto Board Game Discount come inizio della nostra collaborazione, quindi è il primo gioco sponsorizzato direttamente da Board Game Discount che vi ricordo, tanto vedete sempre la nota video, e primo link in descrizione, andate ad acquistare i vostri giochi, giochi da tavolo, giochi di ruolo, direttamente da Board Game Discount perché oltre a fare finanziamenti, quindi potete pagare giochi a rate, trovate sempre i migliori prezzi in assoluto sul mercato e se addirittura su un altro sito trovate che il gioco viene meno, glielo potete direttamente contattare e magari vi faranno anche uno sconto. Primo link in descrizione se lo volete acquistare. Ovviamente si parla di battaglie della vecchia trilogia, quindi episodio 4, 5 e 6, della battaglia dei ribelli contro l'impero. Laddove il giocatore che muove i ribelli sarà, ovviamente come tipo di truppe, esercito e tutto quanto, e flotta sarà molto più debole rispetto al giocatore imperiale che invece avrà una forza praticamente smisurata e il giocatore che muoverà i ribelli si dovrà muovere stealth, quindi il giocatore che decide di fare l'alleanza ribelle dovrà avere un tipo di gioco meno aggressivo e più stealth, più nascosto, mentre invece l'impero avanzerà conquistando sistemi, distruggendo pianeti con la morte nera, cacciando i ribelli e lo scopo del giocatore imperiale è quello di scovare la base ribelle che è nascosta, ovviamente l'avete visto, e la deve distruggere completamente. Nella confezione 150 miniature, un po' piccolina a dire la verità, ma dettagliatissime, spetta 150 miniature, due eserciti. Vi faccio vedere un po' cosa c'è dentro. Unboxing, scatola immensa, bellissima, spessa, ma perché c'è pieno zeppo di roba e guardate, a livello di contenuti di roba per un gioco di questo genere l'ho vista soltanto in Twilight Imperium, veramente piena, piena, o anche in Forbidden Stars, piena zeppa di roba, come vedete, un gioco della Fantasy Flight ed edizione italiana di Asmode Italia. Vedete, la classica scena è Luke in episodio 6, l'imperatore, Darth Vader, gli AT-AT e poi l'attacco alla prima morte nera. Apriamo. Regolamento di gioco, ovviamente tutto quanto, come ho detto, in edizione italiana. Facile, veloce, le regole, praticamente il turno si divide in tre fasi, quindi anche particolarmente veloce, e nello stile, nel buonissimo stile di Asmode, tradotto tra l'altro con molte immagini che ci raffigurano tutta quanta la sequenza dei turni ed è veramente, ragazzi, è facile. Ve lo dico, l'ho letto una volta e mezzo, ma mezzo, cioè mezzo manuale, perché le altre cose l'avevo già capito, magari qualche regoluccia che mi poteva non tornare lì per lì, ma è una cavolata di gioco, è veramente semplicissimo. Le plance dell'alleanza ribelle, con i tipi di nave, i valori vita che hanno, i vari dadi che tirano per l'attacco, il tipo di truppa qui accanto, quindi una leggenda per sapere quando e come la potete costruire, e poi hanno anche un valore di trasporto per trasportare truppe, caccia, tay fighter e cose del genere, e di qua ci sono, ovviamente c'è il lato imperiale. Compendio delle regole, per trovare velocemente la regola, messe in ordine alfabetico, e se non vi torna qualcosa, tenetelo sempre sotto mano. Tutti quanti gli standi dei personaggi, che ce n'è veramente tantissimi, sia dell'alleanza ribelle che dell'impero, e poi altri tonche che ci sono sopra, soprattutto, vedete, questi qui tondi sono i pianeti distrutti dalla morte nera, perché il giocatore imperiale, sì, qui potrà distruggere interi pianeti. Tabelloni di gioco, che ora a breve poi vi faccio vedere tutto quanto aperto, è qui bello, imbustato, nero e chiuso. Basettine di plastica, dove mettere i personaggi speciali. Mazzi di carte, dove all'interno ci sono tutte quante le carte del gioco, che sono più che altro carte missione, carte obiettivo, carte personaggi, altre cose. Dadi di gioco, che sono dadi rossi e neri. E ragazzi, c'è, nemmeno quando si compravano i soldatini da piccini all'edicola, o nei negozi di giocattoli, pieno zeppo di miniature, 150 miniature qua dentro. Vi faccio vedere un pochino come funziona. Ragazzi, carne al fuoco, ce n'è tantissima, e guardateci, prende tutto quanto al tavolo dell'Ikea, e c'ha uno sbotto di miniature piccoline, però dettagliate. Poi, piccolissimi gli ATST, abbiamo i soldati che vanno a rappresentare le truppe di terra della ribellione, gli stone trooper invece che rappresentano gli imperiali, poi abbiamo unità di terra, vedete, di difesa della ribellione, col colore sul grigio chiaro, sul bianco. Abbiamo la morte nera, guardate che spettacolo con sotto il coso, il pedistallo, in tre versioni, e c'è anche quella di episodio 6 che è distrutta, guardate bella, spettacolare. Poi abbiamo incrociatori, ovviamente, della ribellione, trasporti leggeri della ribellione, una corvette, dovrebbe essere una corvetta corelliana, questa qui sempre della ribellione, e poi si arriva alle cose più belle, ragazzi, qui veramente. Guardate qua, lo Star Destroyer imperiale, e poi la cosa ancora più bella, guardate qua, la nave dell'imperatore. Questa è veramente una figata assurda, e poi le cose più iconiche. Si passa in caccia, TIE Fighter, X-Wing, e il bombardiere, l'Y-Wing. Le due plance, Alleanza Ribelle e Sopra Impero Galattico, e vedete che sopra, come vedete all'inizio, ci sono tutti quanti i costi per costruire le truppe, che sono i simboli qua giù, e vedete ciascuna truppa ha un valore di attacco, e una vita, quindi un valore di difesa. Che ne so, l'X-Wing tira un dado nero, che sarebbe questo qui, e ha un valore di vita di 1 nero. Ad esempio, invece, l'ala Y, che è questo qua giù, tira un dado rosso, ed ha un valore di difesa nero. E tutte le altre navi descritte, sia per la ribellione qua giù, che per l'Impero Galattico. Ovviamente, una cosa che mi piace molto di questo gioco, vi faccio l'esempio, andate a prendere un trasporto ribelle, che ha un valore, una vita rossa, l'ala X non lo può distruggere, perché sarebbe anche impensabile, o ancora meglio, un ala X, un X-Wing, è impossibile che distrugga uno Star Destroyer, perché una, un caccia piccolino, così del genere, vi immaginate che, anche se l'Urando vada a distruggere una cosa così grande, è impossibile. Quindi, truppe che fanno danni neri, possono ferire soltanto, altre unità, ovviamente aere, nello spazio, quindi non unità di terra, possono ferire soltanto, altre truppe, che abbiano, lo stesso colore, del dado che si va a tirare. Quindi, nel caso, un cacciatai, può ferire tranquillamente un X-Wing, un cacciatai, può ferire tranquillamente, un ala Y. Però, un ala Y, invece, non può assolutamente, fare fuoco, alla rovescia, su un cacciatai, perché, vedete, va soltanto a tirare un dado rosso, mentre invece, il cacciatai, ha un valore di difesa di nero. Però, dall'altra parte, un ala Y può fare fuoco, tranquillamente, perché è un mezzo pesante da bombardamento, può tranquillamente silurare uno Star Destroyer. Quindi, queste sono le regole di base. Voi tirate il dado che c'è scritto, e ferite, se dall'altra parte c'è lo stesso colore del dado dell'attacco, andate a tirare. I quattro leader di partenza, poi dopo ne potete reclutare anche altri, però questi sono i quattro leader di partenza, quattro per la ribellione, quattro per l'impero. I mazzi delle carte azione, che questi imperiali, questi ribelli, i mazzi delle tattiche, questo è per l'impero, e le carte missione, che ciascuna fazione, ciascun giocatore, dovete sempre tenere 10 in mano. Ce ne sono quattro di partenza, per ogni fazione, con questo simbolino qui, che vuol dire che sono di partenza, e anche quando le giocate, non vanno scartate, ma ve le rimettete in mano direttamente, quindi le giocate, e non le scartate, tutte le altre carte dovete pescare. Ad esempio, scusate, l'avevo invertito, o me ne sono accorto soltanto adesso, comunque, ve ho detto, quelle di partenza, e gli altri mazzi, da cui andrete a pescare le missioni, che ora vi faccio vedere come funzionano, e alle missioni per farle, dovete sempre andare a fidargli un leader. Il gioco si vince, ovviamente, giocando con le missioni. Vi ricordo che il giocatore imperiale, deve scoprire la base ribelle, dove è nascosta, il giocatore ribelle, invece, deve riuscire ad arrivare, ad avere il supporto, di tutta quanta la galassia, che si ribelle all'impero, per vincere la guerra. Abbiamo qua su, le carte obiettivo, abbiamo la base ribelle, che la base ribelle, è un pianeta sulla mappa, ma voi non sapete qual è, perché ovviamente, è qua sotto, perché c'è un mazzo, di carte sonda, che sono queste qua giù, che ovviamente, sono le sonde imperiali, e all'inizio, nel setup della partita, il giocatore ribelle, ne sceglie, non che la pesca a caso, ma ne sceglie volutamente una, e quando ha scelto quella carta, la mette qua sotto. In questo caso qui, il pianeta scelto è Datomir, quindi qui si nasconde, la base dell'alleanza ribelle, e la mette qua sotto, quindi obiettivo dell'imperiale, sarà trovare questo pianeta, distruggerlo, o con la morte nera, o comunque mandarci le truppe, per distruggere, tutte le truppe della ribellione. Le carte progetti, dell'imperiale, le carte sonda, che vi dicevo prima, il contatore dei turni, ogni volta che passa un turno, ovviamente lo muovete, e il contatore dell'alleanza ribelle, che questo qua giù, del supporto alla ribellione. Il giocatore ribelle vince quando questo e questo si vanno ad incontrare, magari si incontrano sull'otto, perché tramite carte missione è riuscita a farsi punti fama, e passando turni, quando questi due qui si incontrano, così, uno sopra l'altro, si vanno ad accavallare, l'alleanza ribelle ha vinto la partita, quindi l'imperiale deve fare di tutto per far sì che questo, perché quello dei turni, si muoverà sempre, però questo dell'alleanza ribelle non deve andare giù, quindi l'alleanza ribelle non deve prendere punti fama. Ma sempre su questo stracciato ci sono scritte le azioni che si possano andare a fare, quindi azioni di costruzione, che poi ritroviamo anche su pianeti, e azioni di reclutamento per andare a reclutare i leader. Quindi quando il cursore arriva nel secondo turno, sarà possibile reclutare un leader, ovviamente per tutte e due le fazioni, e andare a costruire delle truppe. Quando invece arriverà qui, nel terzo, sarà possibile invece soltanto assumere leader nuovi. il gioco si divide in tre fasi che sono fase di assegnazione, fase di comando, e fase di ripristino, che sono comunque tre fasi facilissime, poi alla fine sono due, perché la fase di ripristino è soltanto un veloce setup prima di passare al lato successivo. La prima cosa che si può fare, prendendo ad esempio, vi prendo la scheda dell'impero, che sono quelli che a me, per ovvie ragioni, piacciono molto di più, come vi ho fatto vedere all'inizio, ci sono i leader. I leader inizialmente possono essere affidati o a delle missioni, che le carte missioni sono queste qua giù, oppure possono essere utilizzati per spostare le truppe. Queste sono carte missioni che ovviamente ciascun giocatore avrà la propria mano in tutto, ne dovete avere dieci, comprensivi anche di quelle che vi ho detto all'inizio, scusate prendo quelle dell'impero, di quelle iniziali che vedete hanno questo simbolo qua giù. All'inizio segretamente uno guarda la propria mano, mette in campo due missioni, perché ciascun giocatore ne deve mettere due, mette in campo due missioni e su ciascuna missione affida un leader o due, perché la missione vi chiederà sempre di fare una prova che ci sarà scritto, quindi ci saranno delle caratteristiche che sono richieste per superare quella missione lì, ad esempio lo vedete anche in alto, e se ci mettete un leader che non ha quel valore la missione non può essere fatta, o magari se è un valore troppo alto, invece di metterci un leader ce ne potete mettere tranquillamente due. Comunque, di solito diciamo uno e uno, e così si preparano le missioni. Gli altri leader che sono rimasti qui nella riserva serviranno invece per muovere truppe e per altre azioni, per andare a minare, a contrastare le azioni del nostro avversario. Vedete che tanti pianeti hanno un simbolo qui, un esagono, non tutti, ma la maggior parte sì, vuol dire che sono pianeti abitati e pianeti che possono essere conquistati. Se ovviamente ci si muovono delle truppe della ribellione, vi faccio l'esempio, magari c'è un esercito appiedato della ribellione sul pianeta e una nave che la dovete sempre lasciare in orbita, comunque qui accanto al pianeta, vuol dire che magari questo pianeta è stato conquistato dalla ribellione. Se invece ci fossero truppe dell'impero da un'altra parte, come potrebbe essere questo qua giù, su Mustafar, avendoci la supremazia dell'impero e truppe imperiali, il pianeta va in mano all'impero. però la ribellione conquista il benestare di pianeti ovviamente che si alleano all'alleanza ribelle. L'impero può o andare a prendere il favore su quel pianeta oppure può conquistarli militarmente con la forza dall'altra parte. È possibile muovere truppe da un sistema a un altro, da un pianeta ad un altro, solo ed esclusivamente se si hanno trasporti, perché ovviamente le truppe di terra senza un trasporto non si potrebbero muovere da un pianeta all'altro e il valore dei trasporti è segnato qua giù. Quindi uno Stardestruyer porta 6. Ovviamente ogni truppa conta 1, quindi un'armata di AT-AT che sono questi e una truppa di terra contano 1 e 1. Vengono caricati sulla nave, sullo Stardestruyer che nel turno, nel suo turno si sposta da una parte all'altra e li scarica sull'altro pianeta. Quando delle truppe nemiche entrano nel pianeta parte subito una guerra fino a che una delle due parti non ha la supremazia quindi la battaglia va avanti fino a che non è risolta. Una delle due parti deve perdere per forza se no si continua ad oltranza. Quando si va a combattere su un pianeta ci sono delle navi in orbita la prima battaglia è fra le navi in orbita le navi non possono attaccare sul pianeta e il pianeta non può attaccare le navi a meno che ovviamente non abbiate cannoni come questo qui della ribellione o carte tattica particolari. si va a fare il combattimento fra navi e quando è risolto il combattimento fra navi si va a fare fra le turpe di terra. Banale dirvi che si va a fare come nel caso del combattimento fra navi la somma di tutte le navi che abbiamo. In questo caso qui abbiamo uno star destroyer che come vedete qui tira un dado nero e due dadi rossi ed ha un valore di vita di 4. L'incrociatore invece mon calamari anche questo tira un nero e due rossi è tipo lo star destroyer. Quindi si vanno a tirare tutti i dadi vedete che sopra ci sono dei simboli colpito e cose del genere sopra si va a fare il tiro dei dadi e vediamo qual è la truppa che ha vinto vedete che tutte e due hanno 4 di vita quindi dovranno passare più turni di cannoneggiamento prima di distruggersi comunque andranno a segno ad esempio sul mon calamari l'incrociatore mon calamari soltanto valori rossi quindi il nero anche se lo tira ma anche se non lo tira tanto non può ferire il nero è per colpire caccia e cose del genere si guarda chi alla fin fine ha subito più ferite e le truppe vengono tolte sia chiaro che quando sparate a una truppa nemica anche se l'avete distrutta la truppa vi rispara indietro giustamente che è una battaglia quindi anche se avete vinto la battaglia ci sta che vi abbiano fatto abbastanza danni per o distruggere anche la vostra o comunque per fare un tot di ferite quindi si va avanti a oltranza allo stesso sul pianeta ah sul pianeta si va a fare la somma di tutte le truppe che ci sono quindi si va a tirare i dadi sommati della TAT e della truppa imperiale quando sono state rimosse le truppe di una fazione quel pianeta automaticamente si toglie il simbolino e quel pianeta viene conquistato dalla fazione avversaria adesso poi ora vi spiego una cosa del movimento che ho messo prima quando si va a conquistare un pianeta in questo caso Kashyyyk se è un pianeta con delle risorse vedete che da questo pianeta si potranno andare a costruire delle cose che in questo caso qui se prendiamo la scheda dell'impero galattico ci fa vedere che con questo simbolo noi possiamo andare a costruire queste cose che ci sono qua giù a seconda dei colori se sono arancioni si possono andare a costruire tipo ATST e ATAT se invece fossero stati blu potevamo andare a costruire quindi più che altro delle truppe di terra se fossero state invece blu potevamo andare a costruire le cose della flotta che ci sono di qua con l'unica differenza che se il pianeta è conquistato dall'impero può sfruttarli tutti e due se il pianeta è invece sottomesso dall'impero può usare soltanto quello a sinistra per spostare truppe da un sistema all'altro come ho detto vi serve un trasporto se questa nave non ci fosse e fosse da un'altra parte questo spostamento non sarebbe possibile ma per spostare truppe da un pianeta all'altro vi serve anche un personaggio un leader quindi nel caso il grande ammiraglio Tarkin Gramov Tarkin lo posizioniamo dove vogliamo noi possiamo dire tranquillamente ok questo personaggio lo voglio mettere qua giù sempre se avete delle unità a tiro lo potete mettere ovunque con la differenza che se il pianeta è conquistato da truppe ribelle e cose del genere non potete andarcelo a mettere così se non avete truppe da spostarci di conseguenza quindi mettere lui qua giù almeno che lui non sia legato a una missione quindi qui debba fare una missione su Mandalore è inutile mettercelo però se avete un leader che ha questi valori blu che sono di tattica potete usarlo per spostare truppe quindi nel caso se qui ci fossero stati ancora i ribelli a dar battaglia e ci fossero state delle truppe decenti io potevo dire metto lui qui e tramite lui con il comando suo sposto tutta quanta la mia flotta qua giù e le mie truppe movimento che non potevo fare invece se non avevo un eroe da mettere quindi nel punto di arrivo dovete sempre avere un eroe che vi consente di spostarvi ma se questo è il punto di arrivo e ci metto un eroe e da quest'altra parte c'è Darth Vader non posso spostare truppe da un pianeta dove c'è già un eroe quindi prima dovrò spostare Darth Vader da un'altra parte e al momento che questa zona sarà libera dal leader quindi non avrà leader potrò spostarla verso il Grand Moff Tarkin si va avanti nella fase di comando si giocano truppe cosa importante quando andate a costruire delle truppe le dovete sempre mettere sul tracciato di costruzione del gioco che è un tracciato a bordo mappa che vi ho fatto vedere all'inizio e quando andate a costruire delle truppe dovete sempre vedere ad esempio se qui c'è scritto 1 vuol dire che nel giro di un turno le truppe saranno pronte per essere schierate qua giù invece vuol dire che le truppe saranno pronte fra due turni dovete sempre vedere se cosa potete costruire quanti turni ci vorranno e soprattutto sul tracciato del tempo dei turni come vi ho fatto dall'inizio se è il caso di andare a costruire truppe di terra perché se siete in una fase dove potete reclutare soltanto nuovi personaggi speciali non potete assolutamente andare a costruire truppe ci si può spostare da queste qui queste strisce arancioni stanno praticamente a delimitare i vari sistemi una mossa consentita è spostare truppe da qui a qui una mossa consentita è spostare truppe da qui a qui però una mossa non consentita non potete spostare truppe da qui direttamente qua giù dovete sempre passare prima nei sistemi adiacenti quindi ad esempio non possiamo passare che ne so da Alderaan direttamente a Toidaria bisognerebbe prima passare da Kashyyyk e poi da Kashyyyk passare qua giù in fondo ragazzi ovviamente io non faccio tutorial non le voglio fare non mi interessano vi ho dato una veloce infarinatura del gioco le regole principali sono queste qui ma ovviamente ci sarebbero tantissime altre cose da spiegare perché poi ci sono tutte quante le carte obiettivo le carte missione le cose più importanti nel gioco sono il mazzo missione e il mazzo obiettivi perché con queste carte qui si vince la partita perché magari blocchi un danno all'avversario oppure vai a fare direttamente un'azione di sabotaggio che sono queste qua giù che sabotando un pianeta si va che lo può usare ovviamente solo l'alleanza andando a sabotare un pianeta imperiale li blocchi le azioni oppure ci sono anche questi cosi qui tondi che praticamente hanno vari effetti ad esempio quando l'impero cattura uno dei vostri personaggi semplicemente ce l'andate a mettere con la basetta dentro che vuol dire che è stato catturato dall'impero o magari messo nella carbonite per essere interrogato quindi questo personaggio fino a che non sarà liberato interrogato e rilasciato dall'impero o liberato dalla vostra missione non potrete più utilizzarlo lo scopo della ribellione è nascondere la base ribelle quindi dovete nasconderla perché quando un giocatore imperiale arriva in un pianeta mettiamo caso sia Kashyyyk dove c'è la base ribelle e si avvicina con le sue truppe automaticamente il giocatore della ribellione deve dire sì hai trovato la base ribelle quindi una volta distrutta sarà finita la partita e vincerà il giocatore imperiale e banale dirvi che quando si sposta anche la morte nera che non ce l'avete all'inizio degli imperiali ma la dovete costruire quando con i progetti si riesce a costruire la morte nera la morte nera quando arriva in un sistema ha come attacco speciale quello di distruggere completamente il pianeta quindi il pianeta distrutto non sarà più utilizzabile il pianeta distrutto nel caso sotto ci fosse la base ribelle verrà completamente annientato e la partita sarà vinta dal giocatore imperiale in conclusione questi sono i punti di forza di un gioco che secondo me ha fatto veramente innamorare tutti i fan della saga di guerre stellari e è già presente sempre andate nel link board game discount perché c'è già un'espansione ambientata in Rogue One quindi vediamo personaggi come G.Nerso Gale Nerso il direttore Krennic e tutti gli altri è un gioco spettacolare perché a me mi rimanda i ricordi di quando giocavo a Empire at War il gioco per pc uscito tanti 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 anni fa ed è veramente bello perché la mappa è immensa c'è tutta l'ambientazione di guerre stellari ci sono tutte le truppe che avete visto nella vecchia trilogia e secondo me prende anche il periodo giusto perché sarebbe stato bello vedere anche una variante ambientata durante la vecchia repubblica con le guerre dei cloni per l'amor di Dio bellissimo però volete mettere l'iconica battaglia fra l'alleanza ribelle che si deve nascondere e l'impero che invece le deve cacciare secondo me è fatto veramente bene la componentistica e da paura i disegni e l'arte sono veramente splendidi sì qualcuno dice ci potevano mettere anche le pedine degli eroi tipo Darth Vader Grand Moff Tarkin Luke Skywalker però alla fin fine c'è già talmente 150 miniature che mettercene qualcuna in più secondo me è più bellino vederlo sullo stand il personaggio speciale così è più alto rispetto all'arte truppe anche per trovarlo sul campo fai molto prima rispetto che a metterci un omino con una spada laser che magari te lo perdevi anche quindi secondo me non l'hanno buttata tanto fuori se devo dare un voto a un gioco del genere veramente per l'offerta che offre a tutti i fanatici di Guerre Stellarie questo è un gioco che se siete veramente come me amanti di Guerre Stellarie non vi deve mancare un 10 su 10 meritatissimo e difficilmente riusciranno a fare un gioco più bello di questo ho trovato molto geniale sempre a cura di Asmo d'Italia che ringrazio ancora una volta Star Wars or l'esterno quello è un altro gioco geniale però quello è un pochino più un gioco di nicchia un pochino più un filler mettiamola così questo è veramente un gioco che tutti i fanatici della saga non possono mancare e poi soprattutto ha delle regole sono cavolate io quando l'ho sentito parlare pensavo ho detto oddio mi capita un Twilight Imperium 2 miliardi di regole sì è vero che una partita dura tanto perché dura veramente tanto secondo me i tempi poi si possono anche alleggerire quando siete un pochino più esperti però le cose che potete fare qui non le potete fare nemmeno in assalto imperiale questo è il gioco che tutti i fanatici devono avere quindi un 10 su 10 io ringrazio ancora una volta Board Game Discount per avermene offerto una copia per la recensione grazie ragazzi è un onore collaborare con voi spero che ovviamente questa cosa possa continuare nei mesi a venire ricordatevi ragazzi che lo potete ordinare direttamente dal primo link in descrizione lo potete pagare insieme o lo potete pagare anche con un finanziamento direttamente in tre errate quindi andate a vedere e poi tutti quanti i nostri social a seguire fatemi sapere cosa ne pensate ciao ragazzi alla prossima